Innovazione nel segno della continuità e della tradizione. Oggi al centro direzionale CLAI a Sassomorelli è stato presentato il nuovo logo che è stato affidato alla penna di Rob Yanov, già mitico creatore della mela di Apple. Presidente Bettini, un nuovo marchio che però sottolinea la storia di CLAI. Dal 1962 una presenza sempre in crescita nel mercato italiano e oggi anche all'estero. Sì, Cooperativa CLAI nasce nel 1962, è una cooperativa agricola che nasce qui a Dimola. dove la cooperazione è stato un elemento nella società e nell'economia di traino e di sviluppo. Cooperativa CLAI ha e rappresenta questa storia e questa tradizione di impresa sociale e l'ha trasmessa in questi ormai 60 anni attraverso l'apporto di soci allevatori e soci lavoratori. Questo è il grande patrimonio sul quale abbiamo costruito anche il successo di questa storia imprenditoriale. Le piace il nuovo marchio? Non solo mi piace, non solo mi piace. C'è una grande firma dietro questo marchio e soprattutto c'è una grande storia che Rob Gianoff ha saputo tradurre in un modo perfetto. D'altra parte il creatore del logo Apple non poteva che portare a questo risultato. Mi piace perché esprime i valori che noi vogliamo trasmettere ai nostri consumatori, ai nuovi consumatori in Italia e all'estero. C'è l'Italia in questo marchio con una bandiera che abbraccia la targa sulla quale campeggia il logo CLAI. C'è anche un segno distintivo della cooperativa sotto? Sì, c'è un forte segno distintivo della cooperativa. Il 100% carne italiana che vuole dire suini nati e allevati in Italia dai nostri soci allevatori, che vuole dire macellati nel nostro stabilimento di Faenzi a chilometro zero, trasferiti qui a Sassomorelli per la produzione di salami. Perciò questo abbraccio della bandiera italiana è l'abbraccio alla nostra italianità, alla capacità di soci allevatori, soci lavoratori di mettere dentro questi prodotti una grande tradizione ma anche una grande innovazione, perché oggi si fa qualità se appunto si coniugano questi due elementi e nella nostra storia questo è sempre stato visto come la ricerca di un miglioramento. Direttore, appena finito il lockdown, ecco che CLAI oggi 22 luglio presenta un rebranding importante. Un'esperienza quella del lockdown, che cosa vi ha lasciato? Beh, è stata una bella prova sfidante anche per la nostra cooperativa. Anche noi abbiamo avuto delle difficoltà, in particolare nei mesi di aprile e maggio nel comparto dei salumi, lavoriamo molto con la ristorazione, o devo dire lavoravamo molto con la ristorazione che sta lentamente ripartendo. Però ci siamo adattati subito alla nuova realtà, abbiamo iniziato a utilizzare le nuove tecnologie, web, Skype, per gli incontri con gli agenti in tutta Italia, gli agenti nel mondo, gli incontri con i clienti. Abbiamo cercato di capire cosa stava succedendo nel mercato e abbiamo ripreso velocemente le vendite. Quindi siamo riusciti a passare questo momento facendo lavorare tutti. Nessuna persona della cooperativa CLAI ha fatto una sola ora di cassa integrazione. Addirittura stiamo assumendo personale. Nel mese di giugno 15 nuove persone. Quindi siamo pronti a queste nuove sfide. In conferenza stampa avete detto che è servito un anno di lavoro per pensare e realizzare questo rebranding che vi proietta in una dimensione più mondiale rispetto a prima. Radici in Romagna ma testa nel mondo. Noi vogliamo portare la nostra bella Romagna in tutto il mondo. Circa un anno fa abbiamo contattato Rob Janov e Rob Janov prima si è informato di noi e poi è venuto a trovarci, è rimasto qui da noi una settimana, ha visitato i nostri impianti, ha incontrato tantissime persone, ha parlato con le persone, ha visto come produciamo i prodotti, ha visto le nostre condizioni di lavoro. Allora alla fine ha detto sì posso portare il mio contributo per voi, siete un'azienda interessante. Alla fine della visita brevemente ci ha chiesto, mi ha chiesto ma poche parole su come identifica Clay, quelle sono una sintesi e ho detto happy worker, happy salami, cioè se le persone stanno bene in un posto di lavoro allora i prodotti sono ottimi e migliorano ogni giorno e i clienti sono felici. Questo è il nostro marchio. Rob Janov è conosciuto un po' in tutto il mondo perché è stato il papà del logo Apple e da tantissimi anni che oltre a questo che è il suo logo più famoso, la sua creatura più famosa, produce loghi per aziende di primaria importanza un po' in tutto il mondo e questa sua capacità di riuscire a rappresentare in icone, in immagini, in segni, le storie delle aziende ci ha convinto nel cercare di contattarlo e quindi di fare in modo che si appassionasse e entrasse nel nostro progetto di rebranding. Un progetto di rebranding che ha come obiettivo quella di proporre sul mercato una nuova immagine di Clay, un'immagine che racchiude un po' tutto quello che è stata la storia di Clay, tutte le distintività di Clay e la proietti nel futuro, per cui un posizionamento premium, un richiamo alla grande qualità dei prodotti, a quelle che sono le nostre distintività in termini di filiera, di socio elevatori, di carne italiana. Questo per noi è importante, questo processo, questa situazione, perché viene a cadere in un momento in cui, importante per noi come storia aziendale, ma anche perché il mercato e i consumatori stanno chiedendo proprio quelle caratteristiche che sono un po' le nostre caratteristiche distintive, per cui abbiamo la grossa opportunità che nonostante tutta la situazione difficile in cui stiamo vivendo, il mercato sta chiedendo, i bisogni dei consumatori hanno proprio una coincidenza con quelle che sono le distintività di Clay. Per cui abbiamo detto che questo è il momento giusto per poterlo fare. Quali sono i punti fermi, i punti cardine che avete indicato come ufficio di comunicazione Clay a Ianoff per individuare il nuovo marchio? Sono le distintività di Clay, la filiera, questo discorso dei soci, allevatori e lavoratori, la carne italiana di altissima qualità, il fatto dell'unione tra l'artigianalità di produzione e la grande capacità di innovazione, sia nei processi che nelle competenze professionali delle persone. E un po' quello che è il grande tema della cooperativa Clay, cioè la comunità di persone e questa grande attenzione al sociale, per cui la valorizzazione del territorio, delle persone, di tutto ciò che ruota intorno all'attività aziendale. Per cui tutte queste situazioni sono state passate a Robiano e è rimasto molto colpito da questa realtà e credo che sia riuscito prima nel logo e poi nella comunicazione che sarà diffusa nei prossimi giorni a racchiudere un po' tutto questo. Ecco perché il 27 di luglio parte la campagna di comunicazione Clay, la nuova campagna di comunicazione. Sì, parte la nuova campagna di comunicazione su tutti i media nazionali, online, quindi un presidio importante, che ha come obiettivo quello di farci conoscere a chi ancora non ci conosce e rafforzare invece in chi già ci conosce quelli che sono i nostri tratti fondamentali, quindi consolidare ancora di più le nostre immagini. Se lei dovesse spiegare per radio il marchio, senza visualizzarlo, come lo definirebbe questo marchio? Come lo racconterebbe? Lo racconterei in questa maniera. È un marchio elegante, di classe, che racconta di Clay, racconta dell'Italia, racconta delle persone che vivono Clay e che possono invece, altre persone che possono vivere Clay mangiando i prodotti di qualità. E con, diciamo, la stanghetta dell'A che sorride, è un salamino, quindi un salame felice. È un salame felice, allora, si può vedere salame felice, ma si può vedere ancora meglio il sorriso delle persone felici. Persone felici che lavorano in Clay, persone felici che mangiano i prodotti Clay. e Xi hanciutta e